Sono 10.48 del 7 novembre 2023. Oggi sera a bel tempo uscivo con la bici, andavo verso Magliano, forse tagliacozzo, via di seguito. A caso maltempo ho preferito farmi una passeggiata qui alla montagna. Ecco questa nuova punicella, distrutta dal maltempo e dall'altro oggi che vengono alluvionare l'acqua, fango e dietro il 15 settembre 2015. Nebbia sopra, sotto un po' di nebbia. Prima si diceva nebbia, fa padana. No, mostra nebbia sui mondi. Comunque le marce. Allora qui non transitare qui al limite, perché si può cadere se spezza sto pezzo di cemento sotto c'è il buono, invece qui ancora permane più tranquillo. Non è pericoloso qui, qui si. Guardate un po'. Le bacche di rosa canina. E fra poco... Allora qui quattro mesi fa, là sopra, ho sentito il verso dell'orso. Un verso simile. Però tu sai che fa l'orso, verso l'esperienza personale. Si ferma, poi riparte a distanza tra 400 metri, si sente verso l'orso. E questa è la parte, guardate quanti detriti. Vedete? Dunque la mia passeggiata quotidiana l'ho fatta. Adesso torno al mio orto sotto, la città sta mezz'ora qua. Riprendo la mia bici e torno a casa.